Bella a tutti ragazzi, oggi faremo un video molto bello, saremo 10 biglietti su RoboSanto Abbiamo fatto 950, non lo devo caricare ancora scusate, non l'ho già caricato Abbiamo fatto un nuovo personaggio, Brock, molto forte, non lo so, però a me l'interesse Quella trovare insieme a RoboSanto, va bene faremo un biglietto Scrivetemi, se quali dati vedi di RoboSanto, prima di che fanno le bigliette Mi sono usciti, quando l'altro sono 50 troppai, però l'altro è un video un po' di dati Perché sai, è un casino mamma mia, quel video, ci ho messo un'ora Gli altri registro, gli altri registro normalmente, quello volevo fare delle cose belle Ma sai, vabbè, dovuto tagliare cose, mamma mia Vabbè, 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 vabbè Vabbè, 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 v Grazie a tutti. 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 No, non statevi fermi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.